Buon lunedì! Volevo iniziare questo lunedì con una piccola riflessione insieme a voi. Io ho un attaccamento, un amore per la vita smisurato, lo sapete che sono un cuor felice, anche se la vita per tutti non è mai solo una passeggiata a ciel sereno. I problemi ci sono, ce li hanno tutti, ma è da un po' di anni questa parte che io ho deciso di affrontarli sempre di più con il sorriso e con l'idea che tutto, tutto sia risolvibile. Anche perché quando mi trovo di fronte a storie così, come quella di Carolina Marconi, che sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa col sorriso, lei ha scoperto di avere un tumore al seno quando andava a fare i controlli per avere un bambino. Ciao Michelle, vorrei dedicarti questo libro, la mia battaglia più grande, con la speranza che possa essere d'aiuto a tante persone che ogni giorno lottano con dignità e tanto coraggio senza mai perdere il sorriso. Mi emozioni molto Carolina, sei veramente una grande donna e sei certamente d'aiuto a tantissime persone, soprattutto quelle che non danno valore alla vita e che si perdono nelle stupidate. Sei veramente una forza. Mi raccomando, un bacio grande. Mi raccomando, un bacio grande.